Nausea, vomito e disturbi intestinali, questi sintomi di una forma virale che sta tenendo a letto molti comaschi, un'influenza che dura in media due o tre giorni, a volte accompagnata da febbre. Lo sto notando anche tra i miei pazienti, spiega il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Como, Gianluigi Spata. Si tratta di forme virali stagionali che colpiscono l'apparato gastroenterico, dovute soprattutto agli sbalzi climatici vissuti nelle ultime settimane e al caldo improvviso da poco arrivato. Siamo nella normalità, non c'è alcuna epidemia o allarme. Il presidente Spata invita a non recarsi in pronto soccorso. Il più delle volte non è necessario, dice, basta interpellare il proprio medico di base. È opportuno inoltre seguire una dieta idrica adeguata che possa ripristinare la parte liquida persa, evitare quindi latte, latticini e formaggi e moderare verdure e fibre. Prestare particolare attenzione se la forma virale colpisce bambini o anziani, particolarmente soggetti a disidratazione. Se i sintomi persistono per più di due giorni, conclude Spata, è necessario sentire il proprio medico curante.